o vai piano in bike allora via a 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 5 chilometri per chilometri quanti chilometri ci sono fatti da quando ci siamo fatti? saranno una quindicina verti occhia la rama 21 21 che ne rimasti 100 da fare che ne rimasti 100 dico se sono 21 io ho la metà lì me ne segna veloci veloci 18 18 a fa scesa dai questo si chiama porto di scesa nel senso che una volta da castiglioni fa scesa si di qua di qua sinistra sinistra sopra il ponte qui una volta si è chiamato porto di scesa proprio perchè c'era il ponte si alle volte si fanno cambiare è proprio così si è? si 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 è tutto segnalato c'è tutte le distanze si finisce dici una fontanina si qui si 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 A dritto prendi la strada e scappi a Camusia, si chiama sentiano dei principi tristi. A dritto vai a Foiano, scappi al cimitero di guerra e vai a dritto. A dritto vai a Camusia, si chiama sentiano dei campi a Camusia. Astea e galotei ruibile ca sa-i cai. Mai viste cum cai la burca, asa in ceea ce vii in tini. Questa è una salata. E' una salita. E' quella, poi vedi, arriva così a rinforzare. E' una salita. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello è Montepulciano. Montepulciano. Sì, Cassini. Quanto è Vagliano? Sì, là su è Vagliano. Lassù, quello lì è Vagliano. Lì si fa la gara di carretti. Oh, pallone di Vagliano. È una diga, serve per regolare l'afflusso dell'acqua verso l'aria. Una volta, ai tempi dei Romani, la gara non scorreva come ora. Correva al contrario. Ui, già sta, eh? Sì Sì Guarda la ciana nasce da lì Mauro Lì Dove è quella giusta Questa è la ciana Questa è la ciana La destra E di qua E vediamo che sti canne è una cosa Non vi filate mai di me destra a sinistra Porca puttana, è questo, pesce, pesce, c'è il cartello, è proprio atteggiato della politica, questo è il ristorante Mauro, è questo, è il ristorante Mauro, è questo, è il ristorante, è quello andro se viene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, la foto. Grazie a tutti. 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 a tutti.